Fabio Franchini, altro componente della direzione artistica di musica nei vicoli, arte a 360 gradi, musica in primis. Non solo musica in questo evento, un evento che quest'anno si è raddoppiato di due giorni, abbiamo anche pittura e poesia, quindi un connubio perfetto per ovviamente valorizzare il nostro territorio. Possiamo definirla questa manifestazione quasi una residenza artistica, visto ovviamente numerosi artisti presenti in queste due giornate, quasi 20 musicisti, 6 postazioni musicali, 4 associazioni anche di arte visiva, artigianato, un po' tutto. Un po' tutto per cercare di ovviamente far venire qui tutti i turisti per ovviamente divertirsi insieme con noi, passare delle piacevoli serate sia con l'arte che ovviamente con la musica che è l'elemento fondamentale di questa manifestazione.